Ehi ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Sefe, che stai dicendo Minecraft E più precisamente siamo qui con un nuovissimo episodio di The Floor is Lava Ovviamente in compagnia di Espigiochi e Luca Esattamente, questa volta siamo in una cameretta gigantesca Circondati ovunque dalla lava Il nostro obiettivo è trovare una via di fuga da questa camera infernale Per farlo avremo tantissime difficoltà Ci saranno dei parkour da fare, ci saranno pochissimi blocchi da poter utilizzare Quindi dovremmo essere davvero bravi a sfruttarli proprio al 1-1 Perché altrimenti li finiamo Quindi sarà una vera sfida super difficile E quindi buona visione Capisco la nostra copertina Capisco la copertina di Espi Ma l'Instagram di Luca Luca? Spiegaci questa cosa Eh niente, mi servono un po' di follower forse Sì, 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 un po' di follower È scivolato lì Giusto Fede, Fede, ho una sfida per lui Le la proponiamo? Sì Sì, so già cosa vuoi dire quindi sì È una sfida interessante È molto molto difficile Anzi quasi impossibile Esattamente Se arrivi a 10.000 followers Devi uscire la faccia Ci stai Oh yes Accetto Ci stai Luca Accetto Oh yes Perfetto Finalmente Vedremo anche noi Ehi Luca Vediamo sempre il coraggio In effetti forse non lo sanno Ma c'è la lava qui sotto In effetti non si vedeva C'è la lava Quindi siamo in una cameretta Super gigantesca Dove c'è tutto quello che c'è in una cameretta normale E ovviamente c'è la nostra amata lava Però questa volta Il nostro kit di partenza È un po' più brutto Anche per Espy Anche per Espy Cosa sono queste cose? Quelle sono barbabietole Espy Non so se le hai mai mangiate in vita tua Barbabietole? Sì le barbabietole Espy Quelle cose rosse Ma i biscotti dove sono finiti? Sono finiti Come? Li hai mangiati tutti Li hai mangiati tutti Espy E che te ne vuol dire? Espy c'è non è che possiamo ricomprare sempre i biscotti per te Scusa li hai mangiati tutti Ci hai fatto spendere un sacco di soldi Quindi oggi ti dovrei accontentare delle barbabietole Secondo me riusciamo a corromperlo? Fatemi dare qualche ricchiatira a sta barbabietola Non lo so Assaggiala assaggiala Vai a vai Facci sapere Ma sì Non è male Guarda che sono buone Non è male E' bellissimo E' buonissimo Avete altre barbabietole? E' pazzito No No Prendetele tutte Prendetele tutte Ma mi sa che le ha già prese tutte lui Allora Espy Voglio barbabietole Calmati Espy Ascoltami Sì Ok Ogni volta che supereremo un ostacolo molto importante Ti daremo un'altra barbabietola Venite qua ostacoli Venite qua Espy però calmati che se non muori Espy c'è la lava Espy Che fine ha fatto Espy? E' vivo? Credo che sia lì sotto ragazzi Eh sì Ok Tendiamo Forse ho esagerato un pochino Mi sono poi dispezzato le gambe Ok Allora torno in te Riprenditi E facciamo con calma Perché qui è pericoloso Allora Andate un po' avanti Andate un po' avanti Ferri stai attento Che se no ci buttiamo a vicenda Sì lo so lo so Vai prima tu Ok Io penso Di andare direttamente qua Ok E' un po' più comodo Una barbabietola Vieni Ferri No mi butto qui sotto Io perché ho paura Eh ma adesso bruci col fuoco Pazzenta Aia aia Mi passa Sono messo sotto la lava Ci sono Ci sono Sto bruciando Ho messo un piede nella lava Ho messo un piede nella lava No espi Crottolati No Non è una buona idea Poi è peggio Ok si è spento Si è spento Per fortuna Vai continuiamo Continuiamo Opla Attenta Ferri Qua non si può sbagliare niente Oddio Ok Attento Aiuto Io non voglio fare Stai parkour Aiuto No sto bene Sei bene? Sì sì Soffiate su Ferri Dalla distanza Ma così lo alimenti il fuoco Smettetela Smettetela Va bene Adesso la smetto di bruciare Sono pronta al prossimo Eh ho inciampato Eh capita capita Mi sei incastrato il piede Quello è il problema Andiamo Ti sei distrattato a dire barbabietola Esatto Stavo pensando sulla quelle Così complicata la parola barbabietola In effetti Prima di tutto Dobbiamo bucarellare Un pochettino qui Ma hai tagliato il filo del controller Non mi interessa Dobbiamo sopravvivere Sali lì Dopodiché Facciamo tipo così Sali lì Ah mi è spinto nel fuoco Scusa Luca No Non c'è spazio Attenti Scusami Piano Ok Io sono Sono al sicuro Funziona Perfetto 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 Ho usato Sottotitoli i miei due blocchi Sì ci sono Attenta Ferre Non sbagliare adesso Prendo ancora fuoco Ma ci sono Tranquillo A me piace stare nel fuoco Sta bruciando viva Ed è tranquillissima Tutto ok Ok Allora il primo ostacolo è superato Quindi qualcuno deve dare una barbabietola Ad espi Sì Chi gliela vuole dare Era già data ma facciamo finti nulla Barbabietola Eh va bene dai Una extra Ok Allora perfetto A questo punto Noi dobbiamo salire qui sopra Perché il nostro obiettivo È andare nel letto Nel letto teoricamente Ci dovrebbe essere la strada Per scappare via Da questa cameretta infernale E per farlo Dobbiamo trovare un modo Quindi o ci creiamo Una sorta di scala Magari posso saltare sul calzino Non è una buona idea No espi E poi dove vai Non è una buona idea Eh di non uscire da lì Potrebbe essere una canoa Grazie per la tua proposta L'accettiamo Però Ragazzi ma qui sopra c'è una cesta L'avete vista? Ah Ok Guarda io saltando qua Vai Buca lì Salta Ok Una alla volta per favore Cosa c'è? Delle scale Perfetto 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 Ok 3 4 E 5 La metto anche su oppure no? Sì 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 Credo che ci serva Vai Sali le scale Sali Ah è vero che lo posso fare mentre sali Ok Ciao è vero È vero È vero Attenti Attenti Oh Fate da bravi Fate da bravi È già fin troppo difficile questa mappa Non fate stupidaggini Allora Siamo qui E lì sopra c'è un'altra cesta L'ho vista subito non appena siamo saliti Quindi ci facciamo la stradina E qua Ci sono 16 blocchi Blocchi extra Che sicuramente Ci vogliono far utilizzare Per arrivare al letto Perché C'è una bella distanza Non l'ho capito Cioè io non ne ho Ne ho ancora due Allora Allora Perché li hai presi tutti tu Accetti tutte queste responsabilità Non guardatemi Non guardatemi con quella faccia Invece sì che ti guardiamo Proprio con questa faccia E guarda la faccia di Espi Guarda la mia È che peggio Guarda la tua Sì è decisamente peggio Allora Ascoltate a me Non ha senso che Andiamo lì a mettere Quattro blocchi uno Quattro blocchi l'altro Quattro blocchi l'altro ancora Li metto tutti io di fila E risparmiamo del tempo Ok Però se muori Siamo tutti spacciati Ma io non muoio Su Allora guardate Le parole famose di quello Che cade sempre L'idea che mi è venuta in mente Se io faccio da qua Abbiamo un blocco di altezza in più E quindi così Utilizziamo un blocco in meno Uno Due Tre Quattro Cinque Ho un po' di paura Sei Sette Otto Non ci credo Fatte da bravi Non ci C'è Luca che zitto zitto No 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 Smettete Piano piano Luca vuoi una barbabiettola anche tu per calmarti No è spinto Stavo cadendo Perché mi stai vicino Ma perché Io pensavo di fare così Eh sì vabbè ciao Poi Aspetta è stata un'idea un po' No sense Sinceramente Eh come sempre Facciamo così Ok In questo modo risparmiamo altri blocchi Oh mi sta stringendo Allora Ti sto per tirare un pugno Non fa calmarli oggi Lo so Secondo me è colpa delle barbabiettole Espi attento Non posso saltare È pericolosa Aspetta Oh grazie Così almeno non rischi Aspetta di bene È una minaccia È una minaccia Cioè si rischia di sbattere la testa nella cesta e di rimanere lì Lo so È abbastanza pericoloso Qua c'è un cartello che dice di usare bene I blocchi che ci sono lì dentro Altri blocchi Li prendi tu Sono dieci Io direi di dividerceli Ok Io ne prendo cinque Ne ho presi cinque anch'io Ok Allora Come vedete abbiamo un parkour estremo da fare Abbiamo un po' di blocchi da poter utilizzare Quindi Mi raccomando Non sprecateli Utilizzateli solo quando avete davvero paura di cadere E divertiamoci E divertiamoci a fare questo letto di lava Chi va per primo? Io no Io non voglio avere Luca dietro Luca Vai tu per primo vai Luca se vuole i follower su Instagram Deve dimostrare Di essere un po' ragione Vai Luca Un piccolo incoraggiamento Dai Cosa volevi fare? Si può fare? Volevo fare carta a forbice e sasso a voce Si può fare secondo voi? No perché si bara No perché Non si capisce nulla Lo devi dire a voce Dai non ha senso Ormai Luca è andato Non ha senso Dai Stef non robere Accidenti Aia Luca sceglierò la strada migliore Che mi fai distrarre Sta già bruciando Dai qua Fido un colpo di cesoie Ti taglio i capelli Bene fai da bravo Ti taglio i capelli adesso Fai da bravo E spi taglio i baffi Perché vi state tutti facendo arrabbiare Va bene Cosa state facendo voi? Vi state rifacendo il look? E perché sta bruciando E' arrabbiata perché pensa che sia colpa mia Sto bruciando di rabbia Ma sentila Fere entro oggi con quei salti Ok Lasciami stare Dove siete passati? Ti puoi parcheggiare da qualche parte Così avanzo io? Guardate Grazie Fere Se vi sentite particolarmente tigri Potete saltare nel fuoco No grazie Non mi sembra Oh che paura Mi ha salto Era brutto questo No 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 Luca fammi un po' Salta Luca Fere ti consiglio un investimento No Fere No 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 Ce la puoi fare Ce la puoi fare Affinché non rimango troppo Soffi Soffi Secondo me si sta divertendo a bruciare oggi Non so che devi Non so porto i parkour Mi snervano Capito? Snervano Ho sbagliato Vabbè vai Grazie Ci prego Stai appena smetto di bruciare Perché non vorrei cadere Mentre il salto No 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 Aveva tutti i blocchi Espy No ne avevo tre Ah ne avevo i fiti almeno Ne avevano appena di loro i blocchi Aveva solo due barbabietole di Espy Mi prendi in giro e ti muore pure Cosa? Come? Le barbabietole sono perse Le barbabietole mie Mi dispiace Espy Perché devo sempre essere io quello che muore? Perché ci prendi in giro e poi muori tu Ok Vabbè No è impossibile Vi guardo Mi divertirò a guardarvi soffrire Vai Sei saltata tutta la parte difficile così Mamma mia Lo so Sono vivo Stai fermi Stai fermi Oh mamma mia Ho il presentimento che non sarò l'unico a morire Ho questo presentimento Non mi piace andare a fuoco Ci sto facendo l'avitudine No Luca No Luca No Luca Io direi che qua Meno male Ce la faccio Basta E sono difficili questi stanti Tu mi dici Santa che è facile Abbracciami Soffiami Steph Tutti che bruciano Non ci sono più Sono una telecamera Non ci sono Bravissimi Avete completato il parkour di lava Allora Che fatisaccia Che fatisaccia Con il battiscopa Fino ad arrivare alla scrivania In effetti non abbiamo abbastanza blocchi Per Esatto No sì certo Ne avete sprecato troppi per fare il parkour Quindi ve ne sono rimasti pochi Io vi consiglio di provare col battiscopa Com'è che facciamo? Ma se ci buttiamo da qui tra il lenzuolo e la testata del lenzuolo No fere 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 no Perché praticamente è chiuso E da qui dovreste fare un salto che è difficilissimo Ah ok Allora andiamo su Esatto Ok Luca ha capito Luca è l'unico che ha capito Bravo Luca Bravo Luca Non si rompe Spacca per un po' e si rompe dai Questo è un bel tuffo Un bel salto Andate Ah cado in testa Espi Prendimi al volo Non hai preso a meno danno Ai Luca ti prendiamo A posto A posto Mi sono schivato Sei troppo pesante Andiamo Andate 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 Percorrete tutto La presa elettrica Un po' di parkour Oppure la rompete Decidete voi Cosa c'è? Il computer E il computer Il computer sarà connesso al monitor no? Con qualche cavo Ok E quindi Noi risaliamo i cavi Ah Perti hai ragione Hai ragione Ma dai Meno male che c'è Luca ragazzi Siamo tutti inutili Anche io che posso volare E che sono una telecamera Non avevo notato questa cosa in effetti Allora Però ve lo dovete gestire bene Ve lo dovete gestire bene Vedete il blu Secondo me potete bucare Un po' di blu Per creare costantemente Delle scale Per risalire sul filo Siete in mezzo ai fili Ah guardate che bellini Ci siete? 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 Andate 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 Forza 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 Ok allora Dovete salire sul cavo Perché dal cavo potete andare In mezzo alla scrivania Senza problemi Allora aspetta Torno indietro Torno indietro Vai ESP Ok dai ci sta Ci sta Ha fatto bene Uh c'è una chest Ok Apri la e facci sapere cosa c'è ESPY Eccomi Cosa c'è ESPY? Ci sono un sacco di blocchi di pietra 64 Uh bellissimo Bellissimo Aspettate li dividiamo In parti uguali E' un cartello qui sopra Ecco grazie Fede Lo vedevo lì da non troppo C'è scritto Lo vedete Nessuno qua mi vuole far risuscitare Se qualcuno non è più in vita Qui potrà risuscitare Oh Steph puoi tornare Eh lo so ma dovete entrare Ma davvero? Sì Dovete entrare nel blocchi per Steph però Dovete entrare nel Dentro il monitor Ma dobbiamo andare all'inferno a riprenderti Se hai finito lì Sì Ok Sono in mezzo a nulla nell'inferno Voi dovete entrare Oh no E prendermi Ragazzi siete venuti a prendermi Abbraccio di gruppo Oddio Io non volevo neanche venire guarda Non volevo neanche venire qua Mi avete salvato Che bello Torniamo lì Dobbiamo continuare la nostra missione assolutamente Quindi torniamo dall'altra parte Esatto Espi Esatto Una faticaccia inutile Sono scivolato Stavo rischiando di rimorire Appunto Stavo per cazzare in nuovo Attenzione Attenti all'effetto che vi fa il portale Attenti 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 Su 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 Non mi spingete a vicenda Vai Fere Vado Non so dove Perché avevo tutto È giusto è giusto Tutto il monitor Esatto Mamma mia Devi andare molto a casaccia Perfetto Fatemi andare a vedere Fatemi andare a vedere Che sono curioso Cosa c'è durante la serratura Fere fammi passare Sono curioso Sì 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 Ah che bello Altra lava Oh che bello Ma siamo intrappolati In una casa di lava Allora non erano solo una cameretta È un soggiorno Tutto di lava Cioè non era Io pensavo che con la cameretta Poi ce ne andassimo via Anche io Invece un'intera casa Pile di lava Anche io Invece ci tocca fare Tutta la casa con la lava Perché se ci esiste Lasciateci un like Questa è la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao